Ciao ragazze! Allora, nuovo video! Per questo video ho pensato di parlarvi di tutti che ho trovato proprio ieri che sono andata appunto da OVS Se mi seguite su Instagram avete visto le mie un pochettino di salve Perché sono andata in due espositori, una volta da OVS e l'altra volta da Scarpe Scarpe Ma i saldi non erano assolutamente segnalati Alcune ragazze in direct, sempre su Instagram, mi hanno detto che dovevo prendere il prodotto e in cassa me lo avrebbero scontato Ma io sinceramente preferisco vedere direttamente nell'espositore, magari segnalato in giallo Per capire appunto quale prodotto acquisterò scontato e quale no Ieri mattina sono andata ad un'altra OVS e qui ho trovato l'espositore con segnalati saldi Ma voi vedete tutte le foto scorrere qui Voglio fare una piccola premessa Sotto il video dei saldi Catrice Alcune di voi mi hanno detto Eh ma perché non dici solo i prodotti con buon inci? Ragazzi io faccio questi video non solo per chi vuole sapere quali sono i prodotti con buon inci e quali no Ma anche per chi è incuriosita dai saldi Essence Indipendentemente dal contenuto dei loro ingredienti E iniziamo col botto Ho trovato in promozione il blush che ho applicato anche adesso Mosaic Blush Sono questi prodottini qui Questa trama con varie sfumature E dei colori presenti nell'espositore L'unico in promozione ad 1,29€ anziché 3,79€ è il numero 10 Ed è uno dei pochi prodotti con buon inci Vi faccio lo swatch Tende un pochettino al rosa salmone Ancora per il viso ho trovato Get Picture Ready Long Lasting Compact Makeup Instant Flower Finish Del fondotinta compatto I colori in promozione sono il numero 10, 30, 20 e 40 ma purtroppo questo prodotto non ha un buon inci e il prezzo base era di 4,99€ Sempre della linea Get Picture Correttore viso effetto illuminante Colori in promozione 10 e 20 Prezzo naturalmente è 1,29€ anziché 3,79€ Per le sopracciglia la matita modellante per sopracciglia Il prezzo originale era di 1,89€ Make Me Brown ombretto in penna per sopracciglia 3,19€ il prezzo originale Ancora per le sopracciglia abbiamo il Make Me Brow Mascara in gel per sopracciglia Prezzo normale 3,19€ E questo era uno dei nuovi prodotti che uscì con il nuovo assortimento Essence L'unico colore in promozione ad 1,29€ è il numero 03 Devo dire che i prodotti per sopracciglia in promozione sono davvero tantissimi Infatti abbiamo il Make Me Brow Duo Polvere per sopracciglia Prezzo originale 3,59€ E colori in promozione numeri 01 e 02 Purtroppo tutti questi prodotti di cui vi ho parlato Quindi il gel, le polvere Non hanno un buon inci Spugnette per fondotinta e correttore viso Prezzo 2,49€ E sono quelle a forma di cuore davvero molto molto carine Se vi servono, se utilizzate questo tipo di spugnetta Vi consiglio assolutamente di prenderle Stessa cosa il pennello per correttore viso Che questo prendetelo perché comunque i pennelli Essence sono fantastici Anche a maggior ragione il pennello viso kabuki Che questo era proprio un must have Infatti mi sembra stranissimo che stia uscendo fuori produzione Che ha un prezzo di 4,99€ ed è quello color azzurro Tiffany Ombretti, quindi parliamo di nuovo di occhi C'è l'ombretto Occhi 4 Prezzo originale 3,79€ Usciranno tutti fuori produzione e questi ombretti non hanno un buon inci Ancora per occhi, sette ombretti occhi effetto smokey eyes Colori in promozione sono i numeri 02 e 01 Ketals, ombretto occhi, i numeri 07, 02, 01, 06, 04 e 09 Sono scontati a 1,29€ anziché 3,19€ Ma purtroppo non hanno un buon inci Ombretto e eyeliner occhi 2 in 1 Anche questi sono dei prodotti abbastanza chiacchierati di essence Che però purtroppo non hanno un buon inci Sono waterproof e a lunga durata E i colori in promo sono i numeri 06, 07, 03, 02 e 01 E virano tutti sul marrone, marroncino nude Ancora per occhi c'è la contouring matita occhi Numeri 01 e 02 Contouring set ancora per occhi Sono degli ombretti però in polvere Definisce lo sguardo in due semplici step Numeri 01, 02, 03 e 04 Sono a 1,29€ anziché 3,79€ E questi anche non hanno un buon inci E sono degli ombretti composti da due parti Una più chiara, una più scura Scalting, mattita occhi Definisce illumina Colori in promozione 01, 02 e 03 C'è poi la bellissima palette Get Peach Unready Che ha un prezzo di 1,29€ Anziché 6,29€ Composta da 6 tonalità È molto molto conveniente Perché comunque ci sono più di 5€ di sconto Ma ragazze contiene dimeticone E contiene addirittura paraffina liquida Con la base ombretto occhi 2 in 1 E i colori in promozione sono 01 Che è più sul marroncino E il numero 02 che è più rosato Smalti Gli smalti questa volta sono davvero tantissimi E tutti, tutti hanno un buon inci Come ad esempio lo smalto unghie top coat Effetto gommoso Lo spray per un'asciugatura rapida Color boost Smalto unghie ad alta pigmentazione E gli smalti, quelli effetto gel Che come sapete mi piacciono tantissimo Insomma c'erano tantissimi colori Dai chiari ai blu Se vi piace qualche colore Vi consiglio assolutamente di prenderlo Calcolate che il rosso È quello che ho applicato adesso E questo l'ho fatto con Cioè ho utilizzato lo smalto di Essence Però ho fatto il semi permanente Ma nei prossimi giorni capirete meglio tutto Perché ho girato il video Poi finalmente dei prodotti labbra Che non vedevo veramente l'ora di provare E sono le Ultra Last Matita Labbra Usciranno tutte fuori produzione Prezzo originale 2,29 euro Come immaginate non hanno un buon inci Ho deciso di prenderne Il colore questo qui Mi piace tantissimo Più o meno è lo stesso vedete del tappino E ragazzi se usate le matite labbra Io queste ve le consiglio tantissimo Perché l'ho applicata ieri sera E mi è durata veramente tutta la serata L'ho messa anche proprio come base per il rossetto Parlando ancora di labbra Fade Your Share Rossetto labbra Prezzo originale 3,59 euro Ma purtroppo non ha un buon inci Rossetto labbra in stick Effetto opaco Finish Velvet Matte Colori in promozione Numeri 01, 02, 03, 04 e 05 E prezzo originale 2,49 euro Mi hanno tantissimo incuriosita Ho preso questo qui Che è il numero 02 Non ha assolutamente un buon inci Devo dirvi che la maggior parte di questi prodotti Nell'espositore Erano o aperti O utilizzati O swatchati Oppure rotti E poi il rossetto che porto su anche adesso Quindi è un colore abbastanza chiaro E che come vedete Tende un pochettino a schiarire anche le labbra stesse Questo è lo swatch È un rosa malva Vedete anche rispetto alla matita E questo è un rosa più mattone Almeno uno Se siete appassionati come me di rossetti Di tinte labbra Vi consiglio di provarlo Sempre di questa linea Abbiamo il rossetto labbra In stick effetto luminoso Finish brillante Anche qui tutti i colori sono in promozione Ragazzi io non li ho acquistati Semplicemente perché non mi piace Il finish luminoso sulle labbra Comunque se volete provarli Anche questi 1,29 euro Anziché 2,49 euro Naturalmente vi lascio gli swatch Di tutti questi prodotti Di cui vi sto parlando Nel post sul blog C'è giù nell'info box Li potete vedere bene Anche tutti i linci Per il viso Ho trovato ancora Il camouflage Fondotinta E cipria viso 2 in 1 Blush viso Effetto satinato Prezzo 1,29 euro Anziché 3,49 euro Sembrano quasi Delle terre Colori in promozione 10,20 e 30 Ragazzi io non l'ho acquistati Perché comunque non hanno proprio un buon inchi I mosaic blush Hanno delle composizioni Molto molto migliori Per il viso abbiamo Le face contouring palette Luminaiser palette Light up your E la contouring palette Shape your face Ragazzi entrambe Non hanno un buon inchi Perché contengono dimeticone Per gli occhi C'è il super precise Eyeliner occhi In penna Il deep eyeliner Occhi Prezzo 2,99 euro Il deep eyeliner Occhi Waterproof Prezzo 3,59 euro Tutti in promozione A 1,29 euro Tutti di colore nero E tutti non hanno un buon inchi Due palette Di cui vi ho parlato Anche in altri video La prima È la All about grey Palette Ombretti occhi Di cui vi lascio foto E swatch qui Perché io ho questa palette Ma purtroppo Contenendo dimeticone Sono sincera Non la utilizzo moltissimo I colori sono Molto pigmentati Vanno dal bianco Al grigio Fino ad arrivare al nero 1,29 euro Anziché 4,99 euro In promozione La all about Toffee Con i colori Più sul marroncino Ombretti occhi Dei mono Di cui vi ho parlato Anche in video Ossia la linea My must have Quelli che è componibili Nelle palette Per capirci Sono totalmente 3 0,2 12 E 16 Non hanno purtroppo Un buon inchi In quanto contengono dimeticoni Matite Labbra Lip liner Ho deciso di prendere Due che hanno appunto Un prezzo scontato Di 1,29 euro Anziché 1,29 euro L'espositorio era saccheggiato Sia il numero 6 Satin Move E il numero 08 Red Blush Questa di qui È la Move Infatti è molto simile Al matitone questo Che ho sulle labbra E questa è la rossa La numero 08 Ancora altri rossetti Più precisamente Quelli della linea Shine Shine 12 9 15 10 8 16 Tutti ad 1,29 euro I famosi rossetti Long lasting Rossetto labbra lunga durata Niente labbra secche Finish nude Che sono quelli dai colori più Marroncino rosa Ossia i numeri 22 25 20 13 07 E poi ci sono anche quelli dai colori più intensi Che sono dal numero 04 Al numero 02 6 26 21 Ho deciso di acquistare Il numero 27 Ossia questo colore scurissimo Un viola molto scuro E soprattutto molto molto autunnale Ho notato che non è molto pigmentato Per avere una pigmentazione alta Bisogna fare un bel po' di passate Comunque per 1,29 euro Io direi che ne vale assolutamente la pena Poi quando si asciuga Ha un colore molto più matt E finalmente passiamo ai famosi rossetti Matte 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 Che come sapete sono assolutamente i miei preferiti Colore ultra coprente E niente labbra secche Prezzo originale 2,89 euro E due colorazioni usciranno fuori produzione E sono nello specifico la numero 01 E la numero 04 La numero 04 Che è questo colore qui Naturalmente anche questo non ha un buon inci Questo è il colore È bellissimo Infatti non so come mai uscirà fuori produzione Guardate quanto è intenso il colore Ma sono ottimi perché poi durano tantissimo Numero 01 Ho notato che è un colore molto chiaro I matte 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 Rossetto labbra liquido Prezzo originale 2,89 euro Il numero 04 Appunto è in promozione a 1,29 euro Questi sono definiti dei rossetti liquidi Ma in realtà sono dei diciamo lucida labbra dal finish matte Il numero 04 io volevo provarlo assolutamente Ma purtroppo è terminato Bene ragazzi con questo è tutto Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti cosa avete preso voi Con i sal di essence Ma soprattutto fatemi sapere se li avete trovati E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video Un bacione Ciao